Professore, ci parli del progetto Stop Made West? Questo progetto rientra in un filone di ricerca che cerca di dare risposte agli obiettivi di quella che è la cosiddetta strategia Farm to Fork, quindi va dall'azienda fino al nostro piatto. Uno degli elementi ripresi in questa strategia è il dimezzamento degli sprechi entro il 2030. Quanta roba noi abbiamo a casa e sprechiamo, compresi i prodotti ortofrutticoli che vanno incontro ad una serie di malattie. Ebbene, queste malattie non dobbiamo prevenirle proprio per evitare che questi frutti vadano male e quindi vengano sprecati. Per questo abbiamo un progetto europeo chiamato Stop Made West che riguarda tutto il bacino del Mediterraneo dove cerchiamo con una serie di unità di ricerca, tra cui quella molto importante dell'Università di Bari che ha organizzato questo incontro, coordinata dal professor Ippoglito insieme alla dottoressa Mincuzzi e tanti altri colleghi che mira a gestire al meglio le alterazioni del melograno. Ma tante altre attività si stanno svolgendo su Uva da Tavola, su Agrumi, su Drupace e proprio la prossima settimana ci sarà un incontro del progetto a McFruit e quindi se volete seguire le attività di questo progetto basta googlare Stop Made Waste e seguirci sui canali social.